Ma che devo... Una cipollone. Che dove me lo mettere? Vo' cipolletta. Mandatemi il cervello elettronico per sapere notizie sulla targa. A mezzo, la tecnica moderna. Cervello, dimmi se fra le auto rubate c'è la targa Roma F889470. Cervello, dimmi se fra le auto rubate c'è la targa Roma F889470. La macchina è stata rubata due giorni fa. Bravo cervello, bravo. Arrivederci a tante cose, lei è veramente un cervello in ghemba. Non avevo mai... Come l'ho detto. Ma che fai qua? Pasquale, è la tecnica.